Cazzo Vabbè rega mia Mi vedete? Cribbio Allora, che a me ne mi è preoccupata Quindi posso rimanere qua O se volete Vado giù Vado giù in palestra Con un mura Ditemi se volete che vado giù Ti blocchi, prima andava bene Eh lo so Ragazzi, ditemi se volete che Vado giù Non mui Respiro Rapido Lento Suave Sì, sì, sì Resta qua Sì Beh, tutti mi dicono di andare giù Aspetta un attimo Che mi Che mi portino i capelli Comunque se avete qualche domanda da fuori C'è scritto Perché vi ripeto Io non riesco a vedere il box delle domande Non Vedo tutto bianco Non capisco Io faccio pure lo scherino Perché Oh, vabbè Aspettate Oh, ragazzi Adesso non mi vedete più Per un piccolo tempo Poi stasi qui dentro Adesso Cerco di correre Fare il più veloce possibile Arrivo Ok, ragazzi Ok, raga Ci sono Ci sono Ora devo andare giù Quindi non so se prenda Però Fate un altro sforzo Non so nemmeno come si veda Eccomi Ci sono Io sono in live Posso risalutare Ciao ragazzi Mi chiedevano di te Sto babbando Ci presentiamo Il tuo nuovo amico Per le ragazze Si chiama Gianfranco Non sono Gianfranco Si, si chiama Gianfranco No, ti giuro Si chiama Gianfranco 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 Non ho scattito Gianfranco Corsi Sarola Vabbè Io mi metto qua Attento a Non ho bisogno Per dire una cosa Però non la posso dire In live Ma raga Fate le domande Per tutti e tre Così rispondiamo Sono tre Fatti vedere questi occhiali Fatti vedere questi occhiali Fatti vedere questi occhiali Cioè voglio dire Se trovi un bodyguard In spiaggia così Ma tu cosa fai? Non puoi fare niente Niente Assolutamente nulla Ma è buono O qua ti stanno Complimentando tutti Ma perché? Ah di lui Svega Tutti di lui Mi ho io di più di tutti Ma spessore Ma che cacchio è sta roba? Ma per favore In gelosa? No Bro Mi vedete che sei buono Tira per la maglia Buono Adesso Mi tiro con la maglia lui Mi lascio Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Lol Appena ballati No Cioè io sono qua tipo Bro Oh raga Tra pochissimo Le vi ho la maglia entrambi Dopo l'allenamento Oh Ma che cazzo è una sensazione? Oh cazzo Oh Ehm Pura levati se ti ha un'ora Pro No Ma si blocca Ma come si blocca? Siamo 8000 Ma sei toccato qualcosa? Raga qua Non mi esbrivo Comunque a loro non sanno ancora cosa succederà Cosa? Tra pochi giorni Preparatevi ragazzi Datemi di Instagram di questo Volete di Instagram di questo? Di questo? Facciamo così Tra poco Viviamo il nome Di questo con gli occhiali gialli Viviamo il nome di quello con gli occhiali gialli Ok Raga ma perché faccio? Dico Quante domande Non fatti complimenti a lui Cioè che palle? E qualche poi Se non mori Raga è tanto stupido però Cioè Lui No raga Bro Voglio tutto Instagram Raga lui E no non posso dirlo È lo stupido dei balletti Cioè letteralmente lui non sa ballare No stai dicendo Stai dicendo Stai dicendo Stai dicendo Stai dicendo Stai dicendo Però non è vero Lui non è stupido Non posso dirlo ancora Raga è un cazzo di suino A 10k Dai il nome con quello Dai a 10k diamo il suo nome No no Più altro Più alto Fra i tre Chi è il più alto fra i tre? Io Io sono più alto Raga sta morendo Raga io c'ho due braccia È pure scarso Stavo per scarparmi Ma io non riesco a muoverle braccia È pure scarso Stavo per rimanere Non me l'hai detto Cos'è che c'è? Ormai mi hanno In basso la live Hanno chiesto Chi è il più alto Siamo uguali Siamo uguali Raga E non solo noi due Siamo uguali C'è qualcuno altro uguale Ci sono altre due persone uguali a noi Che vedrete tra poco Oh i bodyguard Non oggi Aiuto Spessi Toccate comunque Anch'io È la terza serie No è la mia la quarta Che sorco Ma lol Ah qui c'è le braccia È la mia la quarta È la mia la quarta No è la mia la mia No è la mia la quarta Ma è la mia la quarta Ti vuoi vedere come balli? No ma investi Ti vuoi vedere come balli? Ti vuoi vedere come balli? Fai il vuoco Ma che è questa roba? Così il braccio. Non. Come si vuole? Dieci! Che un braccio distrutto! Ma io l'ho fatto adesso qualcosa. Aspetta. No, non mi vanno le domande! No! Ragazzi! Avete delle domande da fare sto ragazzuolo? Potete fare delle domandine? E lo faccio così! Ma chi è? La vostra ci sta! Adesso lo riprendiamo mentre... Si allena raga guardate. Chi di me è niente? Lo stai proprio qua? Io lo so. Vedrete lui soffrire con il cane adesso. Ragazzi, ora alzo la cosa. Comparate a chi? Oh, sta per morire dal tuo ragazzo. Non è vero! Amore, no! Amo! Amo non riesci! Ragazzi sta per morire Aurora! Preparatevi alla sua morte! Ragazzi, mani eh! No, però... Aspetta, facciamo così! Amo non riesci ad alzare! Sì, però nel senso di far morire. Ho capito. Amo quella roba lì tu non riuscirai mai ad alzare. Sono 40 kg! Ah no, sono di meno adesso. 30. Raga, non riuscirai mai! Allora qua alzi... Non riuscirai... Oh mio Dio! Aspetta, aspetta, è preso più largo! Ma come cazzo lo tieni poi? Qui, 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 qui... No, che cazzo è? Ma che cazzo è? Largo! No! Metti qua? Ok. Ok, raga vedrete la morte di Aurora. Vai! 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 No, amore, vogliono vedere cosa... Vogliono vedere tutti! Hanno chiesto... La tua potenza! Vai! Raga! Raga! Lascia! Bro, se... Fallo scendere un attimo più giù che poi... Amo rimani un attimo giù. No, rimani! No, 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 fidati, fallo scendere perché qua si blocca in teoria. Vai! Vai! Prova! Oh, raga, se muore è colpa mia, eh, io ve lo dico. Dai, di assurdo! Se muore è colpa mia! Vai! Fallo scendere, bro! Fallo scendere! È rimasta incastrata! Lascia, bro, lascia! È rimasta incastrata! È incastrata! Amo! Che c'è? Piccoli... Patatino! Ah! Cazzo di bastarda! Sì! Sì, ciao, saluta Giorgia! Bella, raga! Cosa ne pensi di Cristia? Lui? Eh! È un bel ragazzo? È un bel ragazzo? È un bel ragazzo? Eh, è un bel ragazzo! È un bel ragazzo! Raga... Raga, io letteralmente mi ritengo una persona scarsa! Cioè, sono scarsa, però meno di... Cioè, sono più forte io di lui! Di occhiali gialli! Non so che mi so. Raga, lui è caduta questa roba! Ti manda un ragazzo! Raga! Raga! No! Raga! Io mi dissocio! Raga, io mi dissocio! Raga, io mi dissocio! Raga, io mi dissocio! Vabbè io l'ho fatto meglio di lui però eh In tranquillità Mancava l'ultimo Come ti chiami sul trice? Aurora Baruto No mi dissoge Trova la croccia in calma Croccia in calma Croccia in calma 3 per 10 Lol qua apprezzano tutte Io non ho parole Amo vuoi inquadrare i due vestioni allo specchio? Io mi metto in mazzo Vai oh bro vai Bro ti dia la mano No 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 Perché ma che senso ha? Con questi occhiali gialli non sembri tanto Cattivo? Sério Ehi amico Sono vermi E oggi siamo qui Ok È il nostro amico Oggi è il nostro amico In questa montagna No vieni qua Facciamo fare un paio di screen Io mi siedo Che balle sono l'uomo più grosso d'Italia Vai adesso tiro via la maglia il nostro amico Lol Sì sono l'uomo più grosso d'Italia Questo screen rimarrà nella storia Lo voglio vedere Aspetta però non mi si vede Non mi si vede Ok Amore Devi impadere di meno Top direi Raga ripostate tutti sta foto Scrivendo aurics Con i bodyguard Non sai che ci faranno un meme No Comunque raga vi do più risultati così Se lo volete taccare nelle foto Si chiama No Spammiati tu Per favore Spiammati tu Spiammati tu Eh Spiammati tu Eh Ma c'è un effetto Sì c'è un effetto Infatti sembra un effetto Non senso no Dai Ti lo sento Ma mettimi un effetto da uomo Senti lo tolgo Oh cavolo Oh cavolo Ma cosa è successo Vabbè è uguale Mannaggia mannaggetta Ok vai Eh Cristian Daloi Tutto attaccato CHR però Sai che c'è un Un'immagine Due quadratini Di Di quel sito sporco Dove Qui Ricordo questo momento Io l'ho detto No Anche io mi dissocio Dai facciate le croce ai cavi Vai facciate le croce ai cavi Che cosa sono le croce ai cavi Le croce ai cavi sono quelli così No Non ho capito Ecco è arrivato Oh finalmente è venuto a farmi facciare quello No Devi farlo a me Me lo fai trovare No Perché è mio Me le forno No tranquillo Per una sera sgarriamo Eh dopo però Ma quando te lo sgarrirete scusa Ma da Ma rega Sono imbarazzanti Ste persone che non vogliono farci sgarrare Boh io non ho parole Per serio Ehm Vai Regista Ah aspetta Io intanto No Ragazzi Ragazzi Perché non sta così Comunque mi sa che ti lagga un po' Eh Voglio Pro Io nel frattempo che lui si allena Io gli farei qualche domandina Eh non tutti che stanno uscendo dalla diretta per andarlo a seguire LOL No Io mi dissocio Brava Stanno andando a seguire Ma cazzo Vediamo che cazzo è verta Vabbè No Aspetta Ah ma lascia lì Lascia lì Così si vede che c'è l'igno Ma è troppo basso Qualcosa non guarda Vabbè Sciollo Vini qua Venti poco Eh basso Non so Non so come sto troppo E infatti non riesco a morire Ma è venuto No aspetta Quanti è Quanto è Quanto è 27 metri Ma non so quanta No aspetta No aspetta Vedi che non è Quanto è Scusa Quanto è sicuro quando è su quadri Qua pesa di più Ma si subito Sì No no Nel senso Si deve proprio fare qui Necroce Andiamo qua Ok C'è qualcosa che non quadra Perché qualcuno sta facendo Raga Non potete me lo dire Se stai incontrati Non mi sono Ma non mi piace Allora Non ci ho provato Inserliatelo adesso Boom One two three Si Saga Two B No 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 Tappa No 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 Ehi, ci dobbiamo... Non è nulla di mostrarmi, non è nulla. Ma che cazzo è? L'aria è buonissima! Sì, apriti! Sì, capimelo, qui! Vado indietro, io con quello! Che cosa è questa roba? Ti si fatti tutte le 8! No, abbassa! Non c'è il 7 e vento? No, 12 e vento! Posso provare a 12? Vedi 15! 12 che stai vado a pazzare, raga! Dai, se no... 15! Mi vuole provare! Mi vuole provare! Hai messo 15! No! Sì! È diritto! Ho messo 15! Ma sei stupido! Raga, io... Oh, no! Non posso dirlo, Cabbo! Vai! Non possiamo ancora annunciare su! Gaia, la mia fanpezza è testa! Che bella tu sta qui! E io? Mi hai messo di uguale! No, perché Gaia ti odia! Ma se mi ama Gaia! Non è vero! Uno! Uno! Sì, vero! Unito! Unito! Al quanto... Se non uno! C'è il senso! Quattro! Che vedi? Che vedi? Che vedi? Pro! Cinque! Sì, ma se mi si allarca dietro non mi si avvicina qui! Ti tira! Mi si stringe sotto, bro! C'è? Cosa vuol dire? Mi diventa il culo più grosso! No, quello rimane sempre grosso! Oh! Oh! Stai facendo! Vai, vai! Fa sentire qua! Ma quanto cazzo sono! Rega mi sa che sono... Fai io posso! Pover! E fai l'ultimo! Pufu! 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 Voglio anche provare! Voglio anche provare! Venga! Scusate ma io preferisco... Venga non c'è.. Non dovete preferire me o lui? Cioè siamo amici! E basta! Lui è un bel ragazzo! Lui è single! Io sono fidanzato con questa essere! Questo personaggio... Però è... Prova, metti la gamba avanti, ok, le braccia dritte così, a te, così, guarda, gli hai messo Tieni una macchina, ti stai volando, c'è la vita, è, tutto quello di Мroney è il mio, 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 i mi hai messo Ti ha assolutamente, i miei mi hai messo, ti ho messo, ti non ho messo mai, ti ho messo sempre, mi hai messo sempre, mi hai messo sempre Un drago Così, normale Mola, mola Eh, mi sentivano Vabbè, prova a fare così E a scaldere Ah, non so più ballare Mamma mia! Senti, si spaccano tutte le nere Ma che cazzo è questo? Mi ha insultato le articolazioni Ma no, che cazzo è quello? Mi ha insultato... Raga, non avevate lo perseguire perché mi ha insultato le articolazioni È leggerissimo Eh, però le fanno bene Voi raga, io non ho parole, è serio No, è una parte difficile, è leggero Mi fanno bene così Ah, guarda, vedete Ah, non ho capito Buon, buon, cazzo Non ho capito 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 Però non ho capito Non ho capito Non ho capito Mi ha insultato Ma ti sembra male che mi sfruttavano le articolazioni e tu non hai detto niente? Amore, hai ragione Mmm È pure di tutto No, hai dato bellissima articolazione Sì Ci vuole più? Macca solo la zamba avanti Sligata? Ma io faccio la stessa cosa Ok Oh 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 Guarda È così Stai togli Perché sei roccinigliace? È perché mi senti male Oh, le braccia ancora tutta No, è perché mi diceva che era una piccola cosa, altrimenti io non l'avrei pensato all'insurdo che mi hai detto E l'avrei fatto tutto Vedi così No, è così Io lo faccio, io lo faccio anche lei Vai, che ce la fai, allora, che ce la fai, vai Allora, da prendere queste cose No, è vero, non so così Ma è così Ma è una prima cosa che ti sa Zizi, sei per fare la spalla con noi Ma con la mia spalla Eh, l'ho chiesto Allora, stai in vita così Chiudi E di torni così E di nuovo in tutti Dai, due ore, sto aspettando la mia serie, non mi sbaglio Oh, ma vedi che ti insultano le persone per te Io non ho ancora fatto la mia senza serga Ma così Mi chi santo che ce la fai Così Tu vai tu Sì Vivo 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 Sì Allora che dire Vivo 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 fa un culo sul ciazzo rompi i coglioni oh te le stai non andare eeeh sul palestro dove sei arriva a dimostra si è un'ultima di pelle gli versi di un ucchia eeeh ma mi sento con gli occhiali italiani è un senso si si sono un senso la rega sembra uno dei tanto comunque lo faccio meglio io dai dai zitto vabbè la devi scapparare la città si 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 bravo bravo mamma mia ma che stavo facendo in sedia a te è normale che stessi sia un tappo ma non è vero fa un culo fa un culo fa un culo la vita basta il parolaccio allora ho visto scusate non ne ho mai detto usi tanti sinceramente vuoi un po' non faccio mangiare la domanda con me cosa ti ho fatto trovo no è perchè era conto per terra te l'ho chiesto ma ti posso aiutare scopero vai 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 due dai che schifo tre sei raga vi ricordo che alle 10 ci sarà la live su twitch quindi tutti perchè ci sarà chriser che risponderà a delle domande scomode capito? quindi dovete essere scintiti per forza raga sto proprio a bello ma questo è quello che vuol dire non è che bello allora 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 guarda vado 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 corri ti sto raggiungendo vai oh come si ferma sto cotto? ah non è stato scoperto ma che cosa non è sembrata non è sembrata ma dai si facendo armi ma è caro non è sembrata ma non è sembrata non è sembrata come si ferma sto cotto? ah aiuto aiuto è pazzito sto coso sembra sei tipo quelli che vanno alla prima riunione di scuola c'è anche il cavallo si può sentire la faccia più grossa quella è un giulito più piccolo non la decido io, varia quando mi vedi una mattina sembro un lavore a volte ce la faccio tipo così, più piccola e a volte più dipende non ho Twitch, scaricalo per forza veloce, scaricalo raga mi è caduto in cucciaio hanno chiesto se ti possiamo mandare per forza serve un pacco enorme raga facciamo un paio facciamo un paio di domande questa è la mia quarta ma io ho fatto la prima poi ho aspettato voi ho fatto la seconda e la terza dopo questa è la quarta fermo la devo fare? 25 io ho fatto i testi esercizi non lo so ma l'hai appena visto che lo facevo ti metto 25 madonna ma ce la facevo dentro ma io non capisco questo qua crede che io sia scarsa non ho parole cos'ignifica? oddio ma è uguale come la sua il suo cervello no poverino basta grande la sdg ciao sdg fate schifo grazie lol perché sei nella nostra live ancora? aurics ho messo la storia con i bodyguard grandi siete ridicoli lol grazie perché sei in questa diretta? ma io non capisco le persone che dicono ci insultano cioè perché sei nella nostra diretta a guardarci? una parola ma ma è più ma in che senso? ciao le troiette di auro hanno scritto hey mi aspettate un paio di giorni solo per vedere quel bonazzo poi me ne vado a fanculo no ahia mi sto sto ridando il culo dieci dieci mi hanno tipo seguito 1100 persone davvero? ragazzi ma che fate? seguite il mio amico fate bene grandi cavolo siete veramente grandi abbiamo finito questo vediti qua amore però la tua bocca è cucita shhh ehi questo è sto oh ma che fai? è la oh se ne le canzoni con una cosa troppo strana non è un problema no cioè di quella cosa che è l'altra no cosa ti dico? va bene? sì ma perché? mettiamo qualche canzone spagliola qua posso partecipare in che senso? ciao le nanette cosa guardi? oh ma che cacchio fai? ma è bello che sei convinto io saprò come fare tutto mi capisco non è un bacione l'ho scritto probabilmente io cosa? c'è una presa? eh sì no è dietro è dietro oi mettiti alla musica vedete adesso fai vai quale metto? ma dovete portarvi le casse eh adesso lo ordino figo lo compro non ci sono le casse? eh sì di là ci sono davvero? ah non lo sapevo ma ne vediamo senza musica è un po' triste sì non lo so le casse non è male che se non si compro l'uno meno male che non si compro il primo in dalla te sì non si è molto convinto è dietro łiehtro mi習 a le toccano e lino che lavare ah chate questo tutto chate Sì, non lo so Sì, non lo so E mancano i Ok, per i play serve un po' per poter soffrire Are you done? Super, come? Ok, bravo, don't you, no, don't I'm done Up Ah, perché hanno Cosa significa? Ah, raga, comunque vi Ripeto, allora, alle Ehm Alle 10 ci sarà la Live Twitch, quindi Mura con i pantaloni bucati, ma lol Ma infatti che le ho bucate Oh yeah Sono allo specchio Senza maglia a guardarsi Io non lo so, non vi faccio vedere Perché Ehm Salute le flower, ciao frau, flower? Ehm Mura comunque sulla tuta Sì, lo sa, raga Stavano che anno è? 2001? No, 2002 2002 I'm back Ah ha Don't care, stay mad Ah ha Ehm Comunque la live alle 10 su Twitch Ehm Comunque la live alle 10 su Twitch, quindi Gli faremo delle domande a Cree Ehm Quindi dovete esserci per forti Ci muori secco E sicuramente Abbiamo le pressioni Te lo giuro che ho portare Sti rocchi che pesano più di me Da poco sprofondi No! Mi stavo per spezzare un piede, bro A me Sì, guarda No, ma io Ehm 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 Ok, sì Però dall'altro lato Oh no Sì Ero qui dal Cosa destro Ok Schieno Schieno Sì Fai 1 Ehm Porca Guzzana Uh Sono fortissimi Tu non lo fai 1 1 1 Eh Ehm 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 Boh Ehm 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 Nooo Mi dispiace Come vi chiamate su qui? Cioè io ho un araba russo Uh Ehm 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 Cazzo di suino Ehm 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 Fai l' burrletto di Hulk? Ehm Quando svolta sì Ehm Gio L'ho scolla si Gio Ehm Ehm Gio Ehm Eh Non mi guidano! Stavo arrivando lontano. Lol! Che scarso! Vabbè raga, non so più cosa dire. La diretta finisce qua. Ci vediamo alle 10, cioè tra 20 minuti su Twitch. Ciao bellissimi! Domani ci vediamo sulla diretta con uno scherzo. Ma va a cagare no! Ciao!